Sono appena arrivato a Stabbia con la protezione civile metropolitana e la polizia provinciale e qui abbiamo ancora una situazione di emergenza, molte famiglie sono state colpite da questa sondazione del torrente di questa zona, siamo con i sindaci, i volontari che cominciano ad arrivare numerosi, c'è bisogno di organizzazione per completare il lavoro di liberazione delle strade dal fango, dall'acqua, le drovore sono in funzione e se avete la possibilità di darci una mano venite in queste zone, c'è retoguidi, Stabbia, dove c'è bisogno di aiuti e di volontari che sono già tantissimi in altre zone. Grazie davvero per la grande solidarietà e la collaborazione di tutti.